Ciao a tutti e benvenuti in questo minissimo contenuto multimediale, questa nuovissima serie con Dressy Record 360 in cui andremo a sfatare o a confermare i miti di Minecraft. Dressy direi di andare subito al punto, quindi comincia a leggere il primo mito di Minecraft. Ok, il primo mito è se lanci l'invisibilità a un ragno si vedono solo gli occhi. Perfetto, proviamo. Allora, prendiamo l'uovo di ragno, quindi Spider. Spider, poi la pozione di invisibilità e spawniamo il ragno. Dopo aver spawnato il ragno dobbiamo lanciargli la pozione. 3, 2, 1. Perfetto. Dressy, vedi qualcosa? Sì, io vedo gli occhi rossi, però il ragno se ne sta scappando tutto via. Oh, oh, mito confermato. Guardate ragazzi che si vedono gli occhi, ma il ragno non si vede. Ehe, ragno invisibile. Ok, perfetto, Dressy, il prossimo mito di Minecraft qual è? Il prossimo è se incianti un blocco qualsiasi con protection e lo indossi, poi ti protegge maggiormente. Ok, perfetto, dobbiamo reparare, ci vediamo dopo. Ok, perfetto, Dressy, abbiamo il blocco di planks e il libro con protection 4. Andiamo, perfetto. Incentiamo. No, non c'era che si poteva fare sta roba. Andiamo a metterli in giro. No, ma è impossibile, scusa, io non sapevo che si poteva fare. Perché te non lo sapevi. Ma io non ci credo. No, fammi provare pure a me. Perfetto, ragazzi, sono con il blocco di protection 4, non mi sta proteggendo per niente. Infatti adesso muoio. Mannaggia la put***a, muoio. Ok, ragazzi, allora, mito sfatato. Ok, perfetto, Dressy, leggi il terzo mito di oggi. Per rompere il limite di altezza, metti un distributore e dentro una TNT e attiva il distributore. Io già me lo sento che questa è una cacata. Va bene, ci rivediamo su. Vai, Dressy. Vai, fino alla luna. Vai, vai, vai. Spambiamo. Ok, ragazzi, siamo al limite di altezza. Vedete che non posso posizionare nulla. Mettiamo l'observer e... Ok, mettiamo la leva. Qui. Qui. 3, 2, 1. È vero! È vero, Dressy! Mito confermato! Saltiamo in aria, vai! Boom! Perché è un'entità... E quindi pure noi stiamo sopra il limite di altezza. Perché noi possiamo salire, no? Ok, perfetto, mi sta chiamando... Ok, Dressy, dici il... Il quarto mito di oggi, che lo andiamo a provare subito. Vai, vai. Se piazzi la grassa sotto l'acqua e metti il bon meal, non crescono le alghe. Perfetto, proviamolo subito. Prendiamo la grassa... Perfetto, eccoci qua. Poi... Poi... La farina d'ossa, il bon meal. Ok, quindi... Bon meal. Eccolo qua. E dobbiamo andare nel fiume, ad esempio qua. Qua ci sta un fiume. E ora noi dobbiamo posizionare il brocco d'erba sotto l'acqua, mi sembra. Ok, piazziamo il blocco d'erba sotto l'acqua... E piazziamo poi il bon meal. Funziona. Funziona. Altro mito confermato. Sinceramente io questo non lo sapevo. E manco io. Passiamo al prossimo mito. Ok, Dressy. A te la parola per il quinto mito. Allora, se metti lealtà al tridente e lo diri attraverso il portale del nether, poi chiudi il portale? Tornerà indietro? Ok, perfetto. Prendiamo il tridente. Io prendo l'ossidiana. Ok. Io prendo il libro di lealtà. Come si chiama lealtà? Loyalty. Loyalty, perfetto. Facciamo il portale del nether. E lo accendiamo con il flint e steamer. Perfetto. 3, 2, 1, via. Ti è tornato indietro. Oh, è tornato! Riproviamoci perché non ho capito. Vai, accendo. Sì, no. Ok, accendo. Però voglio vedere se attraversa il portale. 3, 2, 1, via. Eh, ho visto che va però ai cavalli, va laggiù. Oh, non entra nel portale. Non entra? No. Ah, ragazzi. Mito sfatato. Ok, fermi tutti. Sì, non ho registrato. Pensavo di sì, ma non ho registrato. Porca tratta. Comunque il mito era, se metti la name tag al magma cube, in teoria si dovrebbe cavolgere. 3, 2, 1. Oh! Si è girato! Si è girato, ragazzi! Oggi tutti i miti confermati. Che bello, che bello! Come si è girato, spesso? Si è girato, guarda. Ah, sì, non si cazzo. È vero, si è girato. Ragazzi, oggi tutti i miti confermati. Diciamo insieme. 3, 2, 1. Mito confermato. Confermato. Perfetto. Ok, Dressi, dettaci l'ottavo mito. Se ti bevi una pozione di atterraggio morbido, velocità e salto potenziato, potrai saltare di 10 blocchi. Eula, ma dosca. Prepariamo subito il mito. Ok, ragazzi. Queste qui sono tutte le nostre pozioni. Andiamo a confermare o a sfatare il mito. Ragazzi, le beviamo tutte. E vediamo se saltiamo oltre i 10 blocchi. Andiamo. 3, 2, 1. Via. Non è vero nulla. A me non mi sembro. Non è vero, non saltiamo oltre i 10 blocchi. Ma che scamma! Ma che scammata è! Ma dai, ma... No, a parte che... A parte che... C'era da aspettarselo. Vabbè, lo dico io dai. Mito sfatato. Ok, ragazzi. Lo sapete già. Non manco lo dico. Vai, Tressi. Il limite d'altezza del land è di 255 blocchi. Perfetto. Allora, ora... Quando gli scaffolding smettono di costruire ci dirà qual è il limite di altezza. Ok, ragazzi. Il limite di altezza è effettivamente 255. Quindi, mito confermato. Bravissimi siamo... Uiii, che bello. Ok, perfetto ragazzi. Se il video è durato poco non mi frega nulla. Ci abbiamo messo tantissimo a farlo. Quindi, spero che vi sia piaciuto. Io vi saluto. Io qui saluta. Tressi vi saluta. E si fa la volta. Ciao, ragazzi. Eeeh, i titoli di Minecraft. Madonna. Ok. Ora tagli proprio che indietro esce la scritta. Cioè, no, esce la scritta. Buonanotte.